Sono 602, secondo i dati diffusi dalla sede centrale dell'INAIL, i lavoratori che in provincia di Lecco hanno contratto il Covid sul posto di lavoro. Due di loro hanno perso la vita, si tratta di un impiegato delle poste e di un operaio metalmeccanico. A rinunciare di essersi ammalate sul posto di lavoro sono state soprattutto le donne, 456 a fronte di 146 uomini. Il virus ha colpito 239 lavoratori di età compresa tra i 34 e 49 anni, mentre quelli tra i 50 e i 64 sono stati i 250, conferma di un sostanziale bilanciamento tra le due aree d'età. Su scala regionale invece le denunce da infortunio o malattia professionale da Covid sono state 16.700, ancora nella gran parte donne il 73% e 27% uomini. Ad ammalarsi sono stati nell'80% dei casi gli operatori sanitari, seguiti dai lavoratori del settore manifatturiero, da quello dei servizi e da coloro che si occupano di ristorazione e mercato immobiliare.